Ringraziamo Grazie a tutti che siete qui è difficile trovare sempre le parole in questi momenti è un enorme piacere di ricevere dei riconoscimenti per il nostro lavoro che facciamo tutti i giorni pieno di tanti sacrifici che compiamo ogni giorno un ringraziamento speciale lo voglio fare a Angela e Raffaele che mi sono sempre stati accanto hanno sempre creduto in me un grazie a tutta la bella descrizione che ha fatto Angela saluto il mio socio che è sempre vicino facciamo il massimo per trasmettere la nostra Italia all'estero, in Francia da tutto il mondo grazie a me è bellissimo, complimenti la foto con Statuina stai statuendo, lei sta statuendo l'esepito di codice perché non ma lei sta che ti ha già fatto grazie Cosa?